Salve a tutti ragazzi e benvenuti di lasciare in questo nuovo video di Minecraft della Stoneblock 2 Allora ho preparato il mio posto, speriamo, il pavimento non l'ho messo perché tanto non si rompe e qua ho aperto, per poter entrare ho fatto il che, voglio dire se riesco a uscire un attico si ce la faccio, così metto le teste e speriamo bene, speriamo anche di averlo fatto bene perché io non me lo ricordo mica più questo corso, come si fa, dovrebbe potersi far così ovviamente ho messo a male, se è una figura di merda a video non la faccio, non sono contento Ok, andiamo pure, speriamo bene Opla, andiamo qua Mi ricordo che fa un'esplosione da panico Appena si prepara Alla miseria mi ha già preso Ok, proviamo ad andare a vedere se riusciamo a matarlo Vai È un bello resistente Oh porca vacca era morto Ce l'avevo fatta E purtroppo non vedevo quante cazzo di vita avevo Eh, che cazzo, per poco però Per veramente poco Adesso vi rifaccio un attimo Che cazzo vi faccio adesso Porca miseria Ah, cercherò di andarci In qualche modo vi faccio la battura Ce l'ho, ce l'ho qua Se gli è rimasta poca vita come prima Se non si è rifatta Siamo a posto Però porca miseria Era morto Cazzo questa spada è troppo debole Per poco però Allora l'applied Dov'era? Già l'applied qua Mi faccio un attimo una spada Ma proprio per una cacata Sono morto Qui è troppo buio Devo illuminare Allora una spada Facciamocela subito Bordeci facciamo Questa qui C'i denti Proprio per una cacata Cos'altro La kitchen da mangiare Se no qui non abbiamo niente Cazzo però Che sfica Vabbè Ero sicuro Ma mi gastavo un altro corpo L'avevo scuso Purtroppo Non è bastato Andiamo Andiamo qua E vediamo se riusciamo a farcela Dai Ma è morto Porca miseria Ovviamente non posso più salire Eh vabbè Andata così Spero non si sia rifatta La vita Io non me lo ricordo Il Wither Se no vado a fare Quello che uccide il Wither Tanti saluti Non è un problema Devo ucciderlo così Però Se non ci riesco Mi sa proprio che non ci riesco Troppo forte E niente Ci ho provato Potete viasimare Vabbè Faccio il Come si chiama Quello che uccide il Wither Che è il Mi ricordo come si chiama E ci vediamo fra poco Ed ecco qua Ho fatto il mob grinder Che è facilissimo da fare Vi faccio vedere con due spade Uno di questi che aveva mangiato A draconi Avevo la farm E una fornace E doveva bastare Mi dispiace Speravo proprio di farcela Ero proprio a un passo Purtroppo non vedevo Quanta vita avevo E Wither si sta rigenerando Ovviamente Ovviamente no Perché non me lo ricordavo E ci vuoi paziente Va bene A posto Dovrebbe bastare Adesso non lo ricordo Così Lì Sì sì Non lo aprirò Così Così Se non è Esatto Mi piatto Troppo non ho potuto Far di gusto Sì Mi fa piacere Che lei sia morto Scassa Barroni Spacacazzi Eccoci qua Ok Ripreso tutto E vabbè È andata così Non si possiamo far niente Ovunque L'importante È che ce l'abbiamo fatta Preferivo batterlo Era molto più bello Per me Però non ce l'ho fatta E me lo farò bastare così Ok Ho preso tutto Adesso La roba Deve essere Probabilmente Qua nella cassa Scusate Eccoli qua Allora Riprendiamoci questo 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 La testa L'inferium Eccolo qui Ce l'abbiamo trovata Questo è quello che ha avanzato Bene dai Contento no Però diciamo che La figura di me Non l'ho fatta in sto video Quindi siamo a posto Insomma Che cavolo Allora questa qui Vabbè La mettiamo La lascio qua Perché se Dovessi fare qualcos'altro Quindi la nether star Ce l'abbiamo L'inferium Ma anche questa la mettiamo via Questo la mettiamo via Mettiamo le teste qua Adesso ne faccio spurnare un altro A sto punto Mi servono un po' di nether star Mi dispiace farlo così Volevo farlo da solo Ma Non ce l'ho fatta E quindi Abbiate venia di me Quanto pare Non c'è verso Io metto la lousa Però sto video del cazzo Mi insomma È uno stronzo Ci fa così Ce la faccio uscire Perché insomma Figura di merda Sì Però insomma Fino a un certo punto Uno dice Allora Mettiamoci sto coso Come si fa Scusate Allora Vediamo un po' Facciamo Le trette Ma porca miseria Mi scivolato il pulsante Ovviamente la testa di cazzo È andata in quel collector Di merda È che divenisse un bene E vabbè Uno E due Adesso Col collector lo stacco Perché mi ha proprio rotto i marroni Non c'è Non c'è gusto C'è un raggio troppo ampio Adesso lo tolgo Vieni giù però Allora Passiamo sto raggio Perché hai rotto i propri marroni Ecco Facciamo uno Così non scassi il palle Anzi zero Così non rompi i marroni E ridammi la testa Va Eccoci qua Così siamo a postolo Vai Aspettate un attico Ecco qua Andiamo via Posto Tanto mangio E quello dovevo ammazzare Sta ammazzando? È già morto? È già morto È stato rapido È stato molto rapido Come ci ha dato? Vabbè La loot crate La clay Ma ce la poteva anche tenere E ci ha dato una nether star E due A saperlo prima Che bastava ammazzare questo Cioè in carità Questi ci dà Le tre teste Per carità E possiamo fare Una destra crook E Dovrei ammazzare un po' di volte Per fare questo Così possiamo farmare Tanti saluti Questa è la base Poi dopo ci vuole il semi Ovviamente Però ne abbiamo già due Avete visto come faccio? Adesso lo farò Un po' di volte Perché tanto mi interessa Farmare un pochino Per fare i semi Tanti saluti È l'unica cosa Che mi viene in mente Per far prima Ma così almeno Siamo a posto Io lo faccio Un paio di volte Forse anche una decina di volte E ci vediamo fra poco Eccomi qua L'ho fatto un bel po' di volte Ho provato a farne anche Spawnare i due Ma Megli ha nullificato Un drop Dove cazzo L'uscita di qua È un bel problema Comunque Adesso Facciamo così L'ho fatto un sacco di volte Ho finito tutti quanti le teste Quindi farvi capire Questo è il risultato Questo è anche quello che avevamo Perché le avevo messo un attimo L'ho posato nell'applied Poi le altre cose le ho Non servivano a niente Insomma Vedete le prendo già da qua Perché ho Comunque ho il Come si chiama Insomma Questo Ma niente Allora Cosa abbiamo Cos'è questa Una L'ho aperto Una leggenda Ma ho fatto un manastino Ma ne fregavo un cazzo Quindi insomma sì Eccolo qua Mettiamo via Questo 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 Abbiamo 20 Nei d'està Beh In più questi Che questi Per farli Porca miseria Vi ho già detto tutto Allora Ho tolto la figura di Belda Che ho fatto Che lo stavo uccidendo Accidenti Se avevo la finale Di armatura Non succedeva Comunque andiamo Finalmente Avevamo bloccato Un po' di cose Adesso posso fare Una fan per il verso Di Nei d'està Perché se servono Non si sa mai Io le faccio Così almeno siamo a posto Andiamo pure A vedere come fare Quindi Allora Dobbiamo fare un po' di cose Adesso che abbiamo le d'està Ma possiamo farle E sono contento Quindi Mangiamo Ok Io mi riprenderei un attico Il mio Obsidian Dopo lo metto via Nella Applied Tanto non serve Ma se no mettiamola qua Che tanto Non serve ad altro Le teste le metto Per il momento qua Queste le metto Nella Applied Vediamo l'essenza Quante ne abbiamo 2S Grazie Ne avevamo sentito Stato asserto Vabbè dai L'abbiamo fatta Non è che non Non le avessimo fatte Poi cos'altro C'era Credo Vi serviva Questo Qua E Basta Per il momento Non mi serve altro Direi che siamo a posto Allora La batteria Si è piena Allora qui siamo ancora pieni Vediamo un attimo Sì Avevamo un output Che è della Cosa Della Proprio Qui abbiamo svuotato Presumo Sì sì Ma vi preoccupate Che abbiamo tanto Allora stavo dicendo La farm La farm Allora Devo fare la farm Di Nede Star Un attimo Solo Che devo vedere Come cassa Non si fa Ci va con questo Il crux Allora Devo fare Questa roba qua Quindi facciamola subito Senza indugiare Scusate Fatemi mettere Sto coso qua Così C'erlo lì E tanti celluti Qua cancelliamo Che tanto Non ci serve niente E abbiamo fatto anche questa Allora Per fare questo Ci serve questo Che ne facciamo due Poi ci serve Questo Che ne facciamo due Se ce la facciamo Meno malo Poi cos'altro Dovremmo aver tutto Diamo un po' Uno E due Non ci basta Per qual motivo Perché dobbiamo fare Due di sti cosi Che palle Allora Andiamo qua Dammi qua Quindi devo fare due cubi Dovrei farcela Ok Oh mamma mia Proprio pelo 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 Eccoci qua Abbiamo fatti due Così possiamo fare Almeno due Nede Star Queste le mettiamo da parte Le mettiamo qua dentro Così se mi servono Non so che sono lì Allora 16 nede Star Mi bastano Dunque devo fare Per il seme Delle nede Star Allora Vediamo un po' Quanti ne abbiamo Eh si Non abbiamo problemi Per queste cose Però dai Io le faccio sempre Perché Finché non facciamo Quello che sto per fare Ci servirà Che adesso vi faccio vedere Cosa facciamo Per veloci dare Un po' Tutte le cose Ecco qua Allora Mi serve Allora Questo lo abbiamo Possiamo togliere Mi serve Prima di tutto Il seme Nede Star Quindi La Mystical Che poi l'ho trovato qua Come si fa Vedete ci vuole questo Più Vabbè Il Farnalad Sì vabbè Non mi interessa Mi interessa questo Allora Quattro nede Star Ce l'abbiamo Più questo Più questo Più questo Per fare questo Per fare questo Per fare questo E salutami tutti E ci vuole un sacco Di cose Allora A su questo Quindi facciamo così Facciamo così A su questo Quindi A su questo Qui Oh Così almeno Eh ci abbiamo sbagliato Scusate Andiamo qua 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 Quando Ecco qua Questo è uno Poi Preferisco fare così Perché se sbaglio È un attimo Sbagliarsi qui Poi così Poi Così Questo è il tier 2 Andiamo sul tier 3 Tier 3 Cosa ho sbagliato? Cosa ho sbagliato? Cosa lo so Il tier 3 mi serviva Ah il 3 Ok Così Adesso mi serve il tier 4 Tier 4 Mi serve il tier 5 Il tier 5 Mi serve il tier 6 Che è il più potente Di tutte Oh ce lo fa Ma do le ho finite tutte E poi ovviamente Mi servono 4 di questi Allora Vediamo se riusciamo a farli Eh La cosa è di qua Questa è di qua Quindi facciamo così Facciamo così Ok ce l'ho fatta Meno malo Ah che poi niente Perché me ne servono due Adesso farò con questo Non so se questo Lo posso mettere lì Che me lo duplica No Non me lo fa mettere Perché il tier 6 Non mi fa mettere Maledetto Me li ha disabilitati Vabbè Adesso facciamo con quello che abbiamo E non ci posso fare molto Allora Mi serve uno spazietto Piccolino piccoletto Cavoli Devo prepararlo Lo preparo Ci vediamo dopo Probabilmente È una cacata Però mi piace molto Ho aperto Tutto quanto Di sopra Ho messo il vetro Il quiet glass Che ho cotto Adesso questo Lo dovrò modificare Questo l'ho avuto Con il silk touch Grazie a questo Che lui silca Cioè Ho preso un pezzettino di terra L'ho sostituito Con il Con questo Con il brick E dopo l'ho tolto E mi è arrivato Con il silk touch L'ho messo qua E si è espanso un po' Qui ho messo così Mi sembrava carino Dai Mi sembra proprio di sì Poi mettiamoci La nostra terra Così Almeno Siamo a posto Dovrebbe Funzionare Ok Adesso craftiamoci Il nostro seme Così Che dovrebbe essere a posto E ce l'abbiamo Quindi in teoria A livello teorico Magari se Lo Coltivo prima Dite no Ecco Dove deve funzionare Perfetto Adesso facciamo il fertilizzo Vediamo se è vero Perché non lo so La prima volta che lo provo Quindi abbiate pazienza Fertilizzo O fertilizzo Mi dai il fertilizzo Grazie a molto gentilo E vediamo che succede Non succede un cazzo Quindi Cos'è che ho sbagliato Vediamo un po' Vediamo un po' Questo Qui dice Che Questo Sopra questo A meno che non sia Una cosa diversa Che non ho capito Cos'è sta Farma Farmaland Che è La compression No È una dirt normale Farmaland Non ho capito Che cosa cambi Dirt di Minecraft E diventa Farmaland In mezzo a sto coso Ah devo per forza metterlo Ok Devo fare un macchinario E che cazzo Dimmelo però Sono tutte cose strane Nella progettosa Non c'erano E quindi Che ne so Vabbè Andiamo a farlo Adesso Proverò Tanto se devo far così Dice un cancasino Nell'inventario Allora Vediamo un po' Toglio un po' di roba Togliamo un po' di roba E vediamo come fare Allora Facciamo sta Farmaland Vediamo un po' Com'è C'è sta cosa Sto macchinario Vediamo un po' Com'è Allora Dobbiamo fare Beh è molto semplice Da fare Non so se funziona Dovrei aver tutto Terracotta Così Quindi devo Cucinare Una clea intera C'è boia Se sei esoso Vediamo un po' Una clea intera Tre Due Non mi ricordo più Insomma l'ho vista adesso Due Più un blocco Come se sei esosissimo Proprio Allora Due Perfetto Dovremmo esserci In teoria A livello teorico Questo cos'è che faceva già La vittoria La vittoria La vittoria Ora sono curioso Cos'è Serviva questo Con Ah la vittoria Ok Tutto a posto Vai Mi mancano i secchi D'acqua Ovviamente Quindi mi servono i bucket Allora Abbiamo questo Abbiamo l'acqua infinita Qua Ok Quindi prendiamo i bucket Eh vabbè Pazienza Prenderemo i bucket Ho scritto Big Bugalo Che cazzo Ho scritto Uno due Ok E due Perfetto Dovremmo essere a postolo Eh Vediamo un po' Vai così Che cazzo Rola manca Erano tre Allora Ma ci avevo visto bene Insomma che palle Eccolo qua Vai Siamo a posto Fammelo Speriamo bene A sto punto Vediamo un po' Questo esatto Per la DERT No Qua Una DERT Normalo Diventa così Spero sia Corretto E non abbia bisogno Di alimentazione Comunque sia Mettiamolo un attimo qua Che devo guardarlo Una DERT Normalo Adesso è un macchinario nuovo Non lo puoi vedere Di come funzioni Cosa vuoi qua Acqua Presumo Vuoi dell'acqua Vabbè Prendiamo La nostra Cosa Qui che abbiamo Adesso Non so se funziona Così Non funziona Ci vuole un secchio Non lo so Chiedo Perché cavoli Cose nuove Non volevo informarmi Volevo farli con voi Solo che Se devo stare qui Come un creftino A fare niente Allora Andiamo a prenderla Acqua Vai L'abbiamo preso un po' Vediamo se è così Perfetto Era così Allora Perfetto Quindi se adesso Io faccio così Lui ce l'ha Cosa gli manca Vediamo un po' Con questo Dice che ci va La dirt Con un 25 millibucket E quindi Dovrebbe essere così Ci va solo l'elettricità A livello teorico L'elettricità Che prendiamo Dove cacchierò L'avevo messo Non mi ricordo più L'ho messo da qualche parte Ho detto Ah qua L'avevo messo qua Ok Posto Benissimo Quindi andiamo a vedere E lo proviamo Tanti saluti Se siamo a posto Possiamo già fare Una bella cosa Mettiamolo qua Esatto Sta andando E l'ha fatta Ok Perfetto Adesso l'ha fatta E possiamo andare tranquillamente Qua Che bello Mi piace un sacco Devo finirlo Ovviamente Però di Piacere a me Alla fine Questo me lo ridai Perché insomma Uno se lo chiede E ci va qua Quindi se io adesso Mettessi questo In teoria A livello molto teorico Se usassi il fertilizer A livello molto teorico Dovesti funzionare E invece non funzioni un cazzo Devo zapparti No Non mi fa zappare Sapete che non ne ho idea Perché non funzioni E vabbè Faremo senza Lo Facciamolo in un altro modo Allora Un'altra cosa che è da fare Assolutamente Questo lo possiamo togliere Questo Scusate Lo possiamo togliere Devo fare questo Immaginare i time block Che questo ci aiuterà parecchio A far Velocizzare un po' Tutte le cose Allora prendiamo L'endestar E facciamolo Vediamo se ci vuole Qualcosa di particolare Questi si fanno così Adesso ne faccio un po' Non so quante ce ne vadano Questi si fanno così Che li abbiamo Ok Andiamo a far C'è la far Vediamo Insomma Sì Cacchio Quattro di questi Quattro di questi C'è insomma una Vagonata di roba Adesso ne faccio un bel po' Così non ci sono problemi A fare tutto quanto Quindi questo 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 E si fa così Quattro Ovviamente Ho sbagliato Mezzo mondo Perché ci vogliono anche questi Adesso li facciamo un bel po' Volete che Porca miserica Non ce la si fa Questi Li facciamo un altro po' Tanto ne ho Da vendere Ok Forza Facciamo così Quattro Allora Quattro di questi Gli ho fatti Per fare quattro di questi C'è uno di questi Quindi Quattro Otto Dodici Quindi dodici Di questi qua Dodici Ovviamente Non basta la roba Allora Adesso facciamo Facciamo così Che cavolo Scusate A un certo punto Uno se lo chiede Se ne frega Cioè è gratis La roba Ok Dodici Quindi Andiamo a far questo Che andiamo a far questo Che andiamo a far questo Così Cosa manca Porca vacca Non ho guardato Questo Ancora questi Ma io ne ho fatti un sacco Poi E va a fare un gulo Allora Quattro di questi Ah questo vuole Che cacchio è questo Scusate Non si fa la domanda Darkstone Ne posso fare un sacco Perfetto Ne faccio un sacco Ok Possiamo farli Cosa Ovviamente Non l'ho finito Questo Ha ragione Che lui Ok Posto Non lo so Quanti li servivano Ma adesso Bastano Quindi quattro Però Ho indovinato I conti Come al solito Come al mio Io sono molto bravo A fare i conti Un altro di questi Con un altro di questi Quattro Ok Un altro di questi Facciamo così Ecco qua Oddio Se l'ho dato No Perché Ovviamente Per fare questo Devo fare questo E ovviamente Mi manca quello in mezzo Vale Dovremmo avercela fatta Perfetto Addio Se l'ho dato Non so Se ha bisogno Di l'energia Adesso Lo mettiamo Un attimo Qua Vediamo come funziona Con RF Andiamo A prendere un attico Cidenti Mi imbroglio sempre Allora mettiamo via Un po' di roba Perché ne ho troppa Quindi mettiamo via Il secchio Questo E siamo a posto Prendiamo quella roba E siamo tutti a posto Mangiamo un attimo E dovremmo essere a posto Se funziona Abbiamo la farm Ok Vieni qua Tanto te Hai finito A posto Non so perché Vuole essere la farm La terra Però insomma Adesso Ce l'abbiamo E questo Ne va a fanculo E questo Dovrebbe alimentare Tranquillamente E qui Vedo già che cresce Oddio se l'ho dato Si ci mette Ancora molto Però Se io facesse Eh perché ho poca energia Ho capito Quindi anche se lo velocizzo Serve a poco Però se velocizzo questo Non capisco perché Ok Ci studio Però comunque Abbiamo Siamo riusciti a fare questa E io sono contentissimo Ma molto molto contento Così piano piano Festeggeremo Ne faccio un sacco E cerco di fare Un cappetto Bello rigoglioso E poi Siamo a cavallo Quindi ragazzi Come al solito Vi invito Lasciamo un like Commento Se vi piace a 6 E fammi sapere Cosa ne pensate Per adesso Salute la Siva Ciao Ciao Ciao